C'è qualcuno qua? Sono tre ore e mezza che sto aspettando Sì ok ma non ero a bere il caffè C'è qualcuno? Ripeto è la terza volta che chiamo e non mi vuoi rispondere? Ah quindi io non sono gentile Sì vabbè non è che mi deve fare la telecronica di quello che sta facendo No no non è stata data la comunicazione No me lo segno, me lo segno Bertelli eh Le regole mi vedo disegno Terza operazione per mio padre 78 anni Come siamo qua signor Lareopondo? Mi sembra una persona un po' fiscale Dopo la signora assurda Non ce l'ha scritto il nostro dolcio invece no Ma qual è? Io non accetto assolutamente ordini da te Chiaro? Le mani? Ma cosa farei fatto io con ste mani? Ma dai ma come vai? Ma quali mani? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti